Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. Ho intenzione di rendere questa serie una sorta di ASMR, cioè ora noi andremo a giocare, io parlerò almeno possibile e vi lascerò semplicemente godere il suono dell'acqua e dello sporco che se ne va via da tutte queste cose. È molto rilassante, io lo trovo molto rilassante, vedremo se anche per voi sarà lo stesso. Andiamo, pulisci il furgone. Ottime notizie, finalmente a un'asta ho trovato un furgone perfetto che rientra nel tuo budget. Non spaventarti quando lo vedrai, sembra sia stato appena tirato fuori dal fondo di un lago, ma è stato un bene perché nessuno ha alzato l'offerta. Non sanno cosa si sono persi, sotto quell'orribile strato di sporcizia c'è una vera e propria macchina da guerra. Il motore è una favola, neanche un filo di ruggine. E nella cabina ci sono anche degli attrezzi, tutto quello che gli serve è una bella lavata. dimostra che ci sai davvero fare con l'idropulitrice. Ok, andiamo con i dettagli. Abbiamo ok. Abbiamo il valore di quello che puliamo, messaggi niente. Vai, iniziamo il lavoro. Continuo. Eccoci qua. Selezioniamo l'uggello. Con 0. Ok. R, ruota ugello. Va bene. Ok. Abbiamo l'uggello. No, mantengo questo. Posso abbassare anche, addirittura. Possiamo saltare. Alla prossima. questa è la modalità mira grazie a tutti Grazie. 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 vediamo se mi si sblocca anche un altro obiettivo eccolo qua pulisci completamente il furgone usando solo il giallo rosso lavoro completato ok acquit found timelapse ah bello 100% rotazione 5 stelle guadagno ottenuto il furgone ha un aspetto fantastico te l'avevo detto che sotto lo sporco c'era un gioiellino ti ho inviato i 100 dollari avanzati dalla cifra che mi avevi dato ti aiuteranno a far decollare la tua attività ah ho appena incontrato il mio nuovo vicino si lamentava di quanto fosse sporco il suo giardino e gli ho detto che ne avrei parlato con te a quanto pare hai il tuo primo cliente ok continuiamo pulisci il giardino bene per il giardino però io vi rimando alla prossima puntata di questo di questa sorta di walkthrough gameplay let's play chiamatelo come volete su power wash sempre in 4k a 60 fps con ray tracing su pc io vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti da glacial spear è tutto al prossimo video